quadri, fiori, ok, riproviamoci così quadri, fiori, cuori, picche vabbè, su ogni asso metteremo tre carte tre carte sul primo asso, che è l'asso di quadri, ricordatevelo eh tre carte sull'asso di fiori ricordatevelo perché, allora quadri, fiori tre carte sull'asso di cuori e le ultime tre carte sull'asso di ok, ricordatevelo eh Alessandro, come ti chiami tu? Alessandro, come prima? Ascolta, Alessandro, mi dici un numero tra uno e quattro la notte, vegliamolo il numero tra uno e quattro, compreso tre, quattro, due, tre, uno, tre, tre c'è uno e quattro, cinque, ragazzi, la matto ha dei danni da qua, da qua, stai sicuro? quindi quattro, uno, due, tre, quattro proprio questo, sei sicuro? puoi cambiare? puoi cambiare? proprio questo allora, attento, guarda questo è quello che terrai te eh, lo terrai te nella mano aspetta che sta cadendo tutto ma anche qua lo facciamo tenere questo lo metteremo qua dentro eh, lo che tende e questo è qua, allora ricordatevi eh lui ha scelto vediamo un po' allora qua c'è una carta due carte tre carte e l'asso di? quadri ricordatevelo, è l'asso di quadri l'asso di quadri eh poi qua abbiamo messo vediamo un po' una carta due carte tre carte e l'asso di? fiori ricordatevelo eh allora qua di fiori e vediamo un po' eh qua c'è qua c'è da tutto, non fa niente non c'è problemi qua abbiamo qua una carta due carte tre carte l'asso di? piecche ecco, quello teniamo qua ok? là dentro c'è l'asso di? ok ora, attento andiamo un po' più avanti e devo farti vedere una mostra magica che mi ha insegnato un mago cinese era piccolino così aveva i baffetti e gli erano in giù dice guarda quando vuoi fare un gioco così bello fai questa mostra qua voi guardate se vedete qualcosa di strano pronti? uno, due, tre avete visto qualcosa? no no, eh troppo veloce vado più lentamente guardate bene se vedete qualcosa di strano avete visto qualcosa? no no? no e sapete che questo è quello che succede anche quando stiamo davanti della televisione ore e ore davanti alla televisione così e poi basta qualcuno che dice hai visto qualcosa? no no attenti, eh perché la televisione vi ruba il tempo imparate a leggere a pensare perché le cose accadono nonostante voi allora vi ricordate qua c'era vediamo un po' eh c'era una carta due carte tre carte e l'asso di quadri ecco quello che era successo appunto non è successo niente oppure qua c'era l'asso di una carta due carte tre carte e l'asso di picche ottimo bravissimi grande memoria adesso prendi una carta e tirala fuori una per volta la prima carta signor e signora che a voi l'asso di picche asso di quadri asso di no grazie bravo mamma mia che siete che mi è venuto a forza di parlare sai Leo mi viene una sete te non hai mai sete durante i spettacoli? spesso infatti io mi porto la mia coca e me la non c'era come me la bevo poi no me la hai un cucino anche a me un cucino sì una sete guarda un cucino piccolo te lo posso dare un cucino non è che ne voglio tanto un po' un po' scusate guardate che quando si parte si aspettate l'emozione una sete o anche se la cosa vabbè sì non è adattissima nel senso che sì almeno sì non è adattissima nel senso che poi fa finire rutini di tanto spettacolo però quando si è asso scusate la vostra voi distraetevi un attimo facciamo un attimo di pausa un attimo solo ecco cin 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 mmm cheers avevo proprio sete vai certo vada là che spreco quella bottiglia di coca cola bella poi sarebbe carino inventarci un gioco ti viene in mente nulla? un gioco da poter fare si inventa? inventiamo proviamo a dare andiamo a prendere sì questo fazzoletto ti piace rosso? un fazzoletto rosso un fazzoletto rosso sì andiamo a mettere nel bicchiere sì nel bicchiere così però proviamo anche a tapparlo completamente ok? si si tappa dovrebbe essere tappato ok? ok poi prendiamo un fazzoletto sì e copriamo il nostro bicchiere ok? così coperto completamente coperto completamente e e nella bottiglia copriamola con questo tubo in questa maniera in questa maniera adesso però avrei bisogno del tuo aiuto perché sì con una parola magica guarda voglio aiutarti con una bacchetta magica guarda voglio prendere una bacchetta magica e provare un po' vediamo un po' questa pensa che questa bacchetta magica mi vuole talmente bene ma talmente bene che per me sarebbe capace addirittura di farsi in quattro vedi eh? no no allora aspetta ne prenderò un'altra guarda prenderò questa va bene? ok pronto? cosa devo fare? eh parola magica allora da lì a qui da qui a lì da lì a qui da qui a lì eh è fatta? si 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 provo provo vediamo 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 un applauso un applauso a Magoleo bravissimo bravo 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 ah ci vicchia va bene allora dovete sapere che è un po' di tempo che a me mi ha preso voglia di vivere una vita spericolata io ormai sono quasi 20 anni che sono in convento e la vita del convento è molto regolare no? molto tranquilla e io per intanto voglio proprio vivere una vita sregolata sapete che ho fatto? eh faccio così in convento siamo tre o quattro frate diciamo tantissimi nel mio convento allora io vado a fare la spesa quando voglia quando c'è tempo vado a fare la spesa e compro tutte le scatoline eh vediamo un po' c'è qualcun altro che vuole vivere un signore di qua o un turista una signora no signora signora grande c'è qualcuno che alza la mano? allora dov'è Alessandro? poi scegliete una persona che venga qua Alessandro grazie grazie sì sì corre corre veloce prima di non vedo mamma mia ecco venga signora signore signora non vedo qua venga venga su venga su sì no non vengo su non vedo niente scusate no no Alessandro sceglie sì aspetta che ci riposiamo un pochettino vai Ale ah trovato no via Ale uno con l'un eh venga signore venga sì venga davvero una mano ecco sì bravo forse il signore lì si sta ecco 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 finalmente ecco signora bravo coraggiosa coraggiosa questa è la prima volta che devo affettare una donna in due ma la signora è coraggiosa bravo faccio il giro scasca allora che dicevo ho voglia proprio di una vita proprio di quelle di quelle allora dicevo vado a fare la spesa compro tutte quelle cose in lattina no sapete in barattolini no che compro che c'è tanta roba arrivo a casa strappo tutte le etichette completamente e metto le lattine dentro il mobile la sera quando è l'ora di cena eh chiamo i miei frati e la vita si fa cena apro il mobile prendo una lattina quello che capita capita eh e si mangia quello eh che ritornano vita spericolatissima signora si chiama Rita un applauso della signora Rita allora guardi signora Rita io ho portato stasera proprio una lattina guardi che bella oh eh proprio una bella lattina va bene avete visto e ho portato anche un mazzo di carte un po' particolare perché guardi sul mazzo di carte cosa ho fatto ho preso le carte e sul retro c'ho scritto delle cose tipo acciughe tipo cetriolini pesche e cetriolini su ogni carta su ogni carta c'ho scritto le cose possibili manzo mais tonno gombro pelati fagiolini lenticchie fagioli pollati argolo di carne carote pesto genovese pizellini zuppi fagioli zuppi fagioli e poi per andare avanti dipinto allora guardi le chiedo le chiedo guardi lei indica una persona la persona che indica dirà un colore rosso o nero quello che vuole quella che si forte gridate forte rosso o nero rosso ora indichi un'altra persona rosso vuol dire quadri o cuori quindi quello che vuole dirà quadri o cuori quadri detto rosso e quadri attenzione un'altra persona a caso dirà numeri o figure le carte ci sono i numeri o le figure numeri o figure figure attenzione perché figure c'è jack l'uomo q la donna o k il re allora l'ultima persona che sceglierà dirà jack q o k forte q allora che abbiamo fatto abbiamo scelto rosso quadri figura q di quadri allora guardi appena vede il q di quadri mi ferma va bene prende la carta ecco la prenda allora guardi signora lei poteva aver scelto qualunque cosa casualmente è stato scelto rosso abbiamo scelto quadri abbiamo scelto una figura abbiamo scelto q di quadri io riprendo la mia scatola lei può dire per favore ad alta voce cosa c'è scritto dietro quella carta signore e signori ce l'ha scritto ecco grazie signora questo può portarlo via è buonissimo grazie un modo come un altro può liberarsi dalla scatola dell'ananas allora andiamo avanti avete voglia vi piacciono questi questi giochi così si va bene allora vorrei questa sera vorrei questa sera chiamare una persona qua sul palco con me no no non tre volontari non tre volontari è una persona che sta facendo la marcia anche lei e anche lei tanti anni che sta facendo la marcia la vorrei far venire qua su perché tanto tempo che cammina e in questa marcia sta facendo un servizio prezioso pensate che lei è infermiera quindi pensate quando si cammina per questo che sorrida linda 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 pensate quando quando si cammina molto con le scarpe poco adatte il caldo il sudore così i piedi non è che stanno proprio benissimo nella sera vengono quelle cose gonfie che si chiamano le vesciche quelle che quando le buchi ci sono schizzi da tutte le parti le strade si innaffiano e lei le cura tutte quante brava linda vi facciamo un applauso grazie a tutti i miei grazie a tutti i miei guarda io vorrei vorrei provare con te a fare una gara va bene una gara io sceglierò una persona uno sceglierà un'altra e faremo una gara come vuoi te come vuoi te ecco io quella signora bionda io quella signorina bionda la venga venga no lo scelta io la signora bionda certo venga 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 va bene io ho scelto la bionda guarda allora per fare questo gioco ho portato proprio delle cose vediamo un po' se le troviamo allora guarda te no certo non puoi guardare però guarda due cose te li do a te uno e due prendi di te brava Francesco poi sei pronto questi li prendo io no queste le do a lei guarda questa è te guarda te come ti chiami scusa Elena quanti anni hai Elena nove e mezzo lavori Elena no è un periodo molto difficile per la vita come ti chiami invece Leonardo quanto anni hai Leonardo otto anni e te sei sposato no ah vuoi farti frate grande Leonardo un applauso a Leonardo due anche a te di questi guarda perché la gara consiste proprio in questo cioè prendi due strappolo bene la destra e la sinistra due le prenderò io puoi iniziare da zero se vuoi e la gara consiste in questo eh guarda facciamo proprio facciamo cambio di posti io andrò qua Leonardo viene con te Elena viene con me di qua voi basta che fate tutto quello che facciamo noi balleremo insieme e voi giudicherete chi è la coppia più brava va bene quella è la migliore va bene con un applauso va bene allora quando sei pronta quando sei pronta quando Francesco è pronto si può partire